Allora, iniziamo. Akita, americano, Siberian Aski, Ciao Ciao, Basenji, Cirneco dell'Etna, Shiba, Spitz, Nano, i cani del sesto gruppo nel pre-ring, per cortesia. Musica 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 Grazie a tutti. Allora, prima selezione, vediamo adesso l'Alaskan Malamut. Allora, forza con gli applausi, Alaskan Malamut. Ecco il Samoyedo. Allora, forza con gli applausi. Siberi Anaski. Siberi Anaski. Siberi Anaski. Siberi Anaski. Dopo lo Shiba abbiamo lo Spitz Nano. Siberi Anaski. 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 Grazie a tutti.